Allora, stavo dicendo che io nasco 30 anni fa occupandomi di dipendenza, sono partita da lì, ho iniziato a occuparmi di tossicodipendenza, quella tosta, quella che c'era 30 anni fa, degli oroinomani, della fase acuta, non che oggi non ci sia più, purtroppo c'è ed è anche molto variegata, però sono partita da lì, solo che negli anni raccogliendo la storia delle persone che arrivavano a una dipendenza e quindi a una patologia, a un disturbo così forte, così acuto, così pesante, raccogliendo la storia dei ragazzi che arrivavano lì, ho cominciato a sospettare l'acqua calda, cioè che ci fossero tutta una serie di segnali, di sintomi e di situazioni che si potevano rilevare prima, prima di arrivare alla fase così acuta, per cui 20 anni fa ho iniziato, ho aperto un'associazione Onlus a Milano che si chiama Altro che Storie, che esiste ancora oggi e che cominciava a occuparsi degli esordi della dipendenza e comunque di quando le cose cominciavano a andare male ma non eravamo ancora nella dipendenza conclamata. Sette anni fa invece è nato Arta. Arta è un progetto sempre sulla milanese, anche se in questo momento si sta un po' allargando, Lombardia, Veneto e Emilia, ma nasce questo progetto perché dieci anni fa in studio hanno cominciato ad arrivare una quantità enorme di bambini e adolescenti o giovani adulti con le diagnosi più variegate, per cui i bambini nelle classi erano tutti iperattivi, erano tutti ipersensibili, erano tutti dislessici, disgrafici, ADHD, DSA, BES, allora un mondo completamente malato. Poi io mi trovavo davanti a questi bambini e nella maggior parte dei casi erano bambini molto sani, anzi bambini così sani da avere l'intuizione di capire che questo mondo non stava andando esattamente nella direzione dei loro bisogni. E il problema qual è? Che in realtà nascono le certificazioni, nascono le diagnosi, per cui Arta nasce come da tradizione, perché io tutta la vita che vado in controcanto e i miei figli dicono che se fossi nata nel Medioevo sarei durata un quarto d'ora, ma vado in controcanto anche con Arta, nel senso che a un certo punto apriamo questo progetto, iniziamo questo progetto dicendo cominciamo a dare una lettura ai disturbi di questi bambini e di questi ragazzi, io mi occupo prevalentemente di adolescenti, che sia una lettura un po' più sana, che sia una lettura che va a intuire, a capire che cosa non sta andando, che forse non è necessariamente la base di una patologia. Quindi nasce Arta e il discorso che io vi volevo portare oggi, Simona mi aveva chiesto di trovare un tema che potesse essere interessante ragionando sulla coscienza. Io vorrei portarvi quello che per me è il tema centrale del mio lavoro negli ultimi almeno 20-25 anni, cioè il discorso dell'involucro. Io adesso poi faccio una premessa, poi ve lo spiego, vi spiego un pochino meglio che cosa intendo. Però tutti questi ragazzi, tutti questi bambini che ho citato fino adesso, sono persone, come molti di noi prevalentemente, che hanno un involucro, una pelle, un guscio molto molto sottile. Cioè hanno una protezione che in alcuni momenti e in alcune situazioni è insufficiente e quindi manifestano tutta una serie di sintomi che in realtà se noi proviamo a leggerli dal punto di vista dell'involucro, riusciamo a dargli una lettura decisamente intanto più positiva, perché poi sono nella maggior parte dei casi, forse tutti, persone molto dotate. Io tutti i ragazzi che ho conosciuto che sono stati portati come la pietra dello scandalo, sotto c'era sempre una meraviglia. Per cui riuscire a dare una lettura che vada un po' fuori dall'idea della patologia ci permette anche di aiutarli a portare nel mondo quello che è il loro compito, il loro progetto. Parlerò di coscienza, di limite e di genitori, figli e trasgressioni perché in questo momento storico è la cosa che mette più in difficoltà le famiglie, cioè il riuscire a stabilire dei limiti, riuscire a ragionare sulle trasgressioni in un modo differente da come si faceva prima, che aiuti però i ragazzi a riappropriarsi proprio di un sano limite e involucro. Premessa, il mondo, niente di nuovo, neanche questo, cambia a una velocità incredibile. Una volta si poteva guardare ai nostri genitori, guardare alle generazioni precedenti per capire come potersi proporre nella relazione educativa. In realtà da molti anni questo non è più possibile perché le cose sono cambiate, cambiano a una velocità tale per cui quelli che erano i criteri educativi delle generazioni precedenti non potrebbero essere più utilizzabili adesso. Quindi noi ci troviamo davanti a famiglie che hanno tendenzialmente più strumenti, anche siamo più informati, abbiamo parlato tanto di genialità, nelle scuole si fanno incontri, prevenzione, dall'altra parte però con un mondo e con una proposta che è talmente diversa, ma di anno in anno, perché quando uno ha più di un figlio si accorge di come già dal primo al secondo, al terzo figlio, siano cambiate le cose, anche solo da un punto di vista tecnologico. E' chiaro che la tecnologia cambia estremamente la comunicazione tra i ragazzi, ma anche tra noi e i ragazzi e quindi questo procedere così velocemente anche solo dello strumento tecnologico ci porta continuamente a doverci rinnovare. E' anche cambiato molto il modo di stare con i figli perché è rarissimo che qualcuno possa permettersi di passare molte ore con i propri figli, quasi tutti lavorano, lavorano tante ore al giorno. Magari qui qualcuno ha qualche ritmo, un po' diverso, io ho mezza famiglia a Guiaforte dei Marmi e devo dire che sono tutti un po' più intelligenti di noi milanesi, per cui i ritmi sono un pochino più a misura d'uomo. Non sempre, però forse un po' più di testa, un po' più di cuore c'è. In realtà nelle famiglie il tempo per stare insieme è molto poco e siccome siamo nell'epoca della funzionalità, per cui bisogna funzionare, bisogna fare delle cose, bisogna giocare con i figli, bisogna ascoltare, bisogna parlare, bisogna fare tante attività sportive, bisogna crescere con il pensiero. In realtà il tempo che poi rimane per stare insieme realmente è quasi nullo. Si arriva alla sera che si è tutti stravolti e quindi il tempo nelle famiglie rimane davvero pochissimo. In più anche la struttura familiare è molto cambiata, perché io poi vi farò un accenno al ruolo paterno e al ruolo materno e ribadirò che cosa intendo, nel senso che quando parlo di madre e di padre parlo sempre di stanze interne, parlo sempre di quel ruolo materno, ruolo paterno che noi possiamo avere in un processo educativo, in un rapporto educativo, ma che non necessariamente coincide con il genere. Per cui non è detto che la madre debba essere necessariamente la mamma. In casa mia mio marito è decisamente più materno come accoglienza, anche preoccupazione rispetto ai figli e io sono decisamente più paterna, sono quella più normativa, più che porta nel mondo. I genitori single sanno che devono avere spesso tutte e due le parti, oppure c'è uno zio, un nonno che subentra, però anche la struttura familiare è molto cambiata. Ci sono famiglie con un genitore, per esempio. Ci sono famiglie allargate, perché il fatto che poi ci si trovi a lavorare molto, piuttosto che ad avere il monogenitore, subentrano spesso i nonni, piuttosto che i parenti, con una formula molto diversa da un tempo, perché un tempo c'era il paese che faceva da contenitore, poi c'era il quartiere, poi c'erano le case, non so, le cascine, le case di ringhiera. Adesso questo è venuto molto meno, per cui la struttura familiare è decisamente, decisamente cambiata. Ma anche loro sono cambiati, perché i nuovi figli intanto sono prevalentemente stimolati per lavorare con il pensiero. Io sono una appassionatissima di fiabe, da 30 anni uso in terapia le fiabe. Le fiabe quelle vere, quelle proprio terapeutiche, non le storie, non le favole. La fiaba che oggi ha un po' perso, si è un po' persa, non abbiamo più tanto l'abitudine di raccontare le fiabe ai bambini, però la fiaba aveva proprio questo compito, quello di andare a formare non solo a livello del pensiero, l'evoluzione dei ragazzi, dei bambini, ma andava a lavorare nella pancia, un pochino nel cuore, ma prevalentemente nella pancia, perché noi dobbiamo sempre tenere presente che tutto quello che noi passiamo a livello educativo, tutto quello che noi vogliamo che resti come segno nelle persone che noi accompagniamo in un percorso educativo, passa attraverso tre livelli. Le cose si possono rammentare con la mente, si possono ricordare con il cuore e si possono rimembrare con le membra. Quindi sono tre livelli differenti e noi viviamo in una società che tendenzialmente invece ci chiede di rammentare con la mente, una società che è prevalentemente una società di pensiero. Quindi i figli sono prevalentemente stimolati con quello che banalizzando viene definito sull'emisfero sinistro del cervello. Quindi tutte quelle cose che sono razionali, che vedono il particolare più che il tutto, tutta questa parte manca e manca anche a loro, che in realtà hanno ancora dentro quel sentire che la vita è un'altra cosa, che l'obiettivo è un altro, che loro sono qui per qualcosa. Quindi diventano arrabbiati e quando noi non possiamo costruire, distruggiamo. Avete presente quei bambini che fanno il castello di carta insieme all'amico? L'amico sta su, il bambino cade, cade una volta, cade due volte, cade tre volte e la quarta volta distrugge quello dell'amico. Non lo distrugge per fargli un dispetto, perché quando sono molto piccoli poi questa malizia c'è meno. Lo distrugge perché le energie che noi utilizziamo per costruire sono le stesse che noi utilizziamo per distruggere. Allora se noi togliamo la possibilità di costruire, e questo in questo momento storico lo stiamo un po' togliendo ai nostri figli, anche le prospettive di vita non sono così incoraggianti, è tutto precario, non c'è lavoro. Pensate quanto banalmente anni fa uno poteva dire al massimo mi costruisco una casa. In questo momento noi non possiamo fare neanche questo, perché comunque ci vuole il progetto approvato, ci vuole il geometra che firma, il disempio. Benissimo, saremo in case assolutamente sicure. Però la parte di costruzione è passata talmente su un piano virtuale, su un piano di pensiero, che tutta la parte del corpo e della costruzione concreta viene meno. Quindi loro sono incazzati. Scusatemi ma ci stava bene. Quindi arrivano decine e decine di segnalazioni dalle scuole, dai genitori, sempre di grande disperazione, perché i ragazzi hanno tutta una serie di disturbi che adesso si stanno attrezzando un sacco di centri anche qui da noi in Italia per diagnosticare. Diagnosi che nella maggior parte dei casi non esiste, perché la diagnosi di ADHD, per esempio, non è una diagnosi scientifica. Io ricevo quintali di certificazioni, così un po' gli insegnanti si sentono rassicurati dal fatto che si possono utilizzare degli strumenti compensatori. I genitori identificano la patologia per cui tirano un po' il fiato, ma in realtà non esiste una diagnosi di questo genere. È un elenco di sintomi che per esclusione, a un certo punto, viene definita come disturbo da. Però non esiste una diagnosi. E qual è il risultato di questo? Che quando noi tutto parte con un proposito assolutamente concreto, intelligente e sano, cioè riconosciamo che ci sono delle difficoltà e quindi gli diamo una lettura e aiutiamo gli insegnanti e i genitori a supportare su questa difficoltà. Ma come arriva? Arriva con è malato. C'è una patologia e questo è quello che leggono i ragazzi. I ragazzi che arrivano da me, la prima cosa che mi dicono è beh, io ho un disturbo, no? Cioè io non sono come gli altri. E io vi garantisco che ormai è dieci anni che lavoro con questi ragazzi e avete presente i geodi? Quei sassi che fuori sono grigi, bruttissimi, e quando li rompete sono pieni di cristalli meravigliosi. Ecco, questi ragazzi sono dei geodi, cioè da fuori non si vede niente. Dentro hanno una ricchezza veramente incredibile, ma è una ricchezza che il nostro mondo non può riconoscere, perché noi siamo talmente sintonizzati sulla parte del pensiero, su quello che è la proposta solita, che non riusciamo a vedere oltre. In realtà loro sono probabilmente il nostro futuro e dobbiamo anche cominciare ad accoglierli in un altro modo. Io qui vi ho accennato solo alcuni dei disturbi, perché noi adesso andremo a parlare di involucro e vediamo come l'involucro è la pelle biologica, ma è la pelle psichica, ma è il ruolo, ma è lo spazio. L'involucro lo possiamo trovare in mille modi differenti, quindi possiamo lavorare in mille modi differenti sull'involucro, ma nel momento in cui facciamo una sorta di diagnosi rispetto alla persona che ci troviamo davanti, possiamo anche andare a vedere come funziona l'involucro da tutti questi punti di vista, anche per esempio la pelle biologica. Corpo, anima, spirito sono tutti collegati, quindi se io sono una persona che soffro di dermatiti o di allergie o che mi ferisco facilmente, ho una pelle biologica molto sottile. Questo sempre corrisponde a una pelle psichica molto sottile, quindi io già vedendo una persona, già vedendo se si scotta il sole, piuttosto che ha una pelle robusta, capisco la qualità del suo involucro e quindi posso anche intervenire. Questa è una delle vignette di Mafalda che preferisco in assoluto, sono un libro aperto circondato da analfabeti, secondo me questo è proprio il tema di questi ragazzi, che hanno tutta una serie di codici per loro molto chiari di comunicazione, perché i genitori a volte mi dicono, sì ma se non va bene perché non lo dice, no? Noi neanche a 50 anni a volte siamo capaci di dire e dare un nome al nostro malessere, figuriamoci a 15, 20, 25, però loro veramente esprimono in modo chiarissimo qual è il loro disagio, ma se noi non abbiamo lo strumento di decodificazione non lo capiamo. Il limite Partiamo dal corpo, allora proviamo a pensare al limite come la nostra pelle biologica, la nostra pelle biologica ha come compito quello di contenerci, per cui contiene tutti gli organi, contiene lo scheletro, contiene tutto quello che fa parte di noi, ha il compito di proteggerci perché la pelle comunque ha una risposta anche al mondo esterno che ci permette di proteggerci, per cui si spessisce quando abbiamo freddo e abbiamo i brividi, piuttosto che ci protegge se ci colpiamo, no? Invece di prendere una coltellata nel fegato, uno spigolo nel fegato, la pelle ci protegge dal mondo esterno. E contemporaneamente ci mette in comunicazione, perché la pelle è anche un, oltre a essere un organo emuntore che ci permette di buttare fuori le tossine, ma comunque respira, c'è una comunicazione, c'è una comunicazione anche nella comunicazione non verbale, no? L'arrossire, piuttosto che avere una pelle quando diventiamo pallidi, comunque la pelle lascia trasparire quello che siamo. Negli anni 70, uno psicanalista francese, Didier Rancieux, conia il termine di io pelle, e lui dice che l'io pelle è praticamente ovviamente la trasposizione della pelle biologica sul corpo psichico, per cui c'è un io pelle, c'è una pelle, c'è un involucro, c'è una bolla, che ci contiene non solo da un punto di vista degli organi, da un punto di vista fisico, ma che ci contiene da un punto di vista psichico, per cui che contiene tutto quello che ci identifica, tutto quello che fa parte di noi. Anzieux aggiunge una cosa molto bella, perché dice, ridefinisce che ci contiene, ci protegge, ci mette in comunicazione, ma aggiunge, è il contenitore delle mani materne. E questa è una cosa estremamente interessante, perché le mani materne, nel senso della parte che ci riesce a consolare, a contenere, a scaldare, a nutrire, quando un bambino ha una buona percezione delle mani materne, che, come dicevamo prima, non devono essere necessariamente quelle della mamma, ma di chi si prende cura del bambino, quando un bambino registra una buona sensazione, spesso le mani materne che lo accudiscono, lo porta dentro la sua bolla, lo mette dentro il suo involucro. E ogni volta che ci sarà una difficoltà, un problema, un momento di tristezza, questo anche da adulti, uno rientra nella sua bolla, rientra nel suo io pelle, e può essere consolato non più dalle mani materne reali, ma da quelle che ha interiorizzato. La pelle ci permette la coscienza del sé. Noi riusciamo a essere consapevoli della nostra identità proprio grazie a una buona pelle che ci differenzia dal resto del mondo. Pensate quando i bambini vengono al mondo come sono assolutamente spalmati nell'universo, tutto quello che succede, succede dentro e fuori. Un bambino che vede un altro bambino piangere, piange, ma non perché si fa condizionare semplicemente, perché in quel momento lui è il bambino, e quindi sente lo stesso male del suo amichetto, piuttosto che, io mi ricordo i miei bambini quando erano piccini che magari chiudevano gli occhi, e tutto doveva diventare buio, perché loro non vedevano più, e quindi erano nascosti. Perché il bambino si percepisce come non solo al centro del mondo, ma il mondo stesso. C'è un momento in cui attraverso i voli che si fanno, gli spigoli che si prendono, la differenza tra mamma, perché all'inizio lui ha fame, la mamma gli dà da mangiare, ha sonno, la mamma lo culla, perché c'è questa differenza del la mamma sente delle cose differenti, ma io sono tutt'uno con la mamma. Nel momento in cui c'è questa differenziazione, nasce l'identità, comincia a costruirsi l'identità, quindi la coscienza di essere qualcuno, di avere delle caratteristiche personali. Ora, qualcuno forse ricorderà il mito di Perseo, Perseo nel mito ci racconta proprio questo, io quando voglio passare dalla pancia, come dicevo prima, per dare le informazioni, di solito mi infilo in doccia e mi faccio venire in mente il primo fiabo, il primo mito che mi viene in mente, in memoria quello di cui vorrei parlare. Funziona, funziona sempre, funziona con tutti. E il mito di Perseo, quando io ho cominciato a ragionare sull'involucro, è il primo mito che mi è venuto in mente. Perseo, ve la faccio breve, perché per i miei standard ho pochissimo tempo, sono una senza limite, senza confine, però Perseo praticamente ha un rapporto quasi simbiotico con sua madre. Il re che è innamorato della mamma si vuole disfare di questo fanciullo un po' troppo unito alla mamma e quindi gli chiede come dono la testa di una delle gorgoni, Medusa, quella che al posto dei capelli un po' come me ha i serpenti. Perseo va per sconfiggere Medusa, in realtà Medusa ha questa caratteristica particolare per cui chi incrocia lo sguardo di Medusa rimane pietrificato, per cui chiaramente il re lo invita a portargli la testa di Medusa proprio perché è certo che tanto sarebbe rimasto pietrificato. Ma Perseo, grazie ai doni che gli danno gli dèi e in particolar modo allo scudo che gli dona Atena, che è uno scudo lucente, trova questo escamotage per cui, che cosa fa? Riflette l'immagine di Medusa, quindi non la guarda direttamente negli occhi e riflettendo l'immagine riesce a tagliare la testa. In questo banalissimo passaggio e anche affascinante episodio c'è il processo di individuazione, cioè che cosa fa Perseo? Perseo comincia a utilizzare un involucro, cioè riflette, riflette perché l'immagine riflette e gli permette di tenere fuori quello che non gli serve o che gli fa paura e di lasciare entrare quello che invece gli serve. Cioè lui raccoglie l'immagine di Medusa per vederla, perché così può ucciderla, ma lascia fuori lo sguardo. E questo è un passaggio che ci fa vedere come c'è un certo momento in cui noi dobbiamo riuscire a costruire, non c'è più, riuscire a costruire il nostro involucro e il nostro io pelle perché ci permetta di lasciare fuori quello che non siamo noi e di lasciare entrare quello che siamo noi. Questo, nei ragazzi che ho citato prima, è uno dei grandi, grandissimi problemi. Cioè non essere invasi dal mondo. Noi viviamo in un mondo che è prevalentemente legato ai sensi, pensate ai volumi. Io sono andata al cinema l'altra sera dopo un annetto che non tornavo, il primo impatto è stato devastante, un volume allucinante. Poi mi sono abituata e non me ne sono accorta più. Però i volumi sono altissimi, le luci sono sempre forti. Nelle classi spesso ci sono un sacco di colori, un sacco di, soprattutto le elementari, un sacco di stimoli, disegni, disegnini. È un mondo che è molto invasivo se noi non abbiamo un buon io pelle che ci protegge. L'io pelle non solo ci permette di lasciare fuori, mi vedi affaticata, che ci permette di lasciare fuori quello che ci turba, che ci ferisce, ma anche le cose molto banali come per esempio uno sguardo giudicante. Molti dei ragazzi, dei giovani di adesso, hanno delle competenze a livello di pensiero incredibili che noi non abbiamo neanche lontanamente, ma non hanno questa pelle che li protegge. per cui lasciano o perdono il lavoro perché entrano in contrasto con il capo, il principale, i colleghi, eccetera. Per cui questo ci dice quanto questa protezione diventa importante su tutti i livelli. Un altro livello su cui noi possiamo andare a vedere e a individuare il livello di percezione del limite e quindi anche il livello di qualità, la qualità del limite è spazio-tempo. Quindi noi abbiamo l'involucro corpo e possiamo guardare la pelle, possiamo guardare quanto una persona si lascia invadere oppure riesce a lasciare fuori le cose. Sono quelle persone che davanti a un episodio sgradevole se lo portano dietro per giorni e giorni, perché rimane dentro, perché non riescono a rimandarlo fuori. tornando ancora un secondo all'io pelle, la reazione tendenzialmente è su due polarità opposte. Ci sono persone che nella vita non riescono mai a costruire un buon involucro e quindi rimangono iper-ipersensibili e quindi sono iper-emotive, sentono proprio male, l'impatto col mondo è proprio doloroso e nella polarità opposta ci sono le persone che poi per compensare invece costruiscono una pelle elefante sono quei ragazzi, quei bambini ma anche quegli adulti che diventano non affettivi, che non sentono niente, che non sentono il caldo e il freddo, che se si tagliano se ne accorgono ma relativamente. Queste persone che passano per insensibili nella maggior parte dei casi sono degli iper-sensibili che si sono dovuti difendere e si sono allontanati dal loro confine. L'altro livello del limite è lo spazio e il tempo. Se noi vogliamo valutare e intervenire dobbiamo guardare anche questo. Anni fa mi hanno regalato un giardinetto zen io avendo il quelli con la sabbia avendo il gatto in casa sapevo che fine avrebbe fatto il giardinetto zen e quindi l'ho portato in studio e ho scoperto che è una cosa che attira tantissimo perché io ce l'ho sul tavolo e non c'è persona che non si sieda e intanto che parla rastrella sposta i sassi e mette a posto. tutti questi ragazzi qua mi distribuiscono la sabbia totalmente sul tavolo ma non per mancanza di rispetto o per maleducazione perché poi sono molto attenti a raccoglierla a rimettermela a posto ma non vedono il limite del giardino cioè per loro il limite non esiste e ne ho uno che è il più il più bello e quindi anche il più complicato e ci ho messo tantissimo ad agganciarlo che addirittura Samuele lavora sulla cornice cioè mentre parliamo lui spinge tutta la sabbia sul limite e poi disegna sulla cornice proprio la non percezione dello spazio quando noi guardiamo come loro riescono a dividere il posto dove si mangia il posto dove si dorme il posto dove ci sono i genitori il posto ci sono quei figli che andrebbero avanti a dormire nel letto dei genitori probabilmente anche a vent'anni che io non sono mai stata tassativa su niente io non sono stata mai tassativa su niente in generale nella vita ma è un segnale comunque è un segnale non è che va bene o va male è un segnale che ci dice che ancora quel confine non si è stabilito quello spazio che è mio e lo spazio che è tuo ancora non è così chiaro quindi noi possiamo guardare riescono a stare nei tempi i genitori arrivano infuriati gli ho detto mezzanotte sempre mezzanotte 10 sempre mezzanotte un quarto e poi mi dice scusa no ma non sono sempre irrispettosi molto spesso non hanno la concezione del limite per cui partono convinti torni a mezzanotte sì sicurissimi di partire a mezzanotte poi partono a mezzanotte meno 10 dall'altra parte della città per cui inevitabilmente arrivano tardi allora questo non non sto giustificando perché poi il limite per me è assolutamente una cosa importante ed è una delle cose che vado a introdurre nel percorso educativo però dobbiamo anche comprendere dov'è la difficoltà perché se poi noi leggiamo tutto come una volontà oppositiva di venire contro di non essere d'accordo con noi di scontrarsi è chiaro che entriamo in un conflitto che però è sterile perché non è quello di cui stiamo parlando il limite del ruolo in questo noi adulti abbiamo tantissimo da fare perché il ruolo in realtà dipende proprio esclusivamente da noi mentre l'io pelle un po' ci si nasce un po' ci sono tante cose che lo definiscono il correre nei prati arrampicarsi fare le caprile sono tutte cose che aiutano a costruire un buonio pelle lo spazio il tempo c'è la scuola ci sono tante cose il ruolo invece dipende esclusivamente da noi adulti per cui su questo io ci ho fatto litigato e lavorato 30 anni perché secondo me soprattutto nel mio settore il ruolo spesso viene confuso con la distanza per cui con il paziente con la persona che ci si trova avanti l'insegnamento era e molti lo portano avanti come un must la distanza quindi non ci si dà del tu non ci si interessa più di tanto delle cose del paziente se non è lui che le racconta piuttosto che bisogna sempre rimanere sul binario non si racconta niente di noi non si deve entrare in un rapporto di reale relazione io non sono d'accordo su niente di tutte queste cose nel senso che io parto dal fatto che per lavorare bene con una persona dobbiamo essere profondamente in relazione con questa persona ma profondamente vuol dire che dobbiamo anche sentirci di raccontare noi delle cose dobbiamo sentirci di condividere delle cose se mi dovesse capitare di dovermi a mangiare in un posto e c'è una persona che sta lavorando con me che si avvicina e mi chiede di rimanere con me io credo che sia opportuno invece mangiarci insieme chiaro che non sto dicendo che sia sbagliato all'impostazione una giusta una sbagliata sono proprio due approcci completamente differenti io parto dal fatto che la relazione sia il punto fondamentale per lavorare bene con le persone e che la relazione dipenda dal ruolo che non è la distanza io lavoro da 30 anni in una comunità per tossicodipendenti sono la responsabile delle accoglienze di questa comunità storica che c'è nel milanese e io mi sono accorta come negli anni io parli sempre meno quando sono con i ragazzi a tavola che succede qualcosa c'è da fare un richiamo io parlo sempre meno e ottengo sempre di più nel senso che la relazione è diventata adesso così forte così intensa così chiara che non devo neanche stare lì a spiegare a specificare loro sanno cosa penso sanno cosa mi aspetto non c'è assolutamente distanza con nessuno di loro a me è capitato di fare esperienze in montagna camminate di dormire nei rifugi tutti insieme proprio quella distanza lì io non l'ho mai utilizzata il ruolo è fondamentale loro sanno perfettamente che io ho una responsabilità educativa o terapeutica nei loro confronti e loro non ce l'hanno nei miei e questo vale anche per i figli noi dobbiamo essere assolutamente in relazione profonda con i figli con gli studenti con le persone che seguiamo questo non toglie che deve essere chiaro a noi prima di tutto e poi anche a loro che c'è un ruolo differente quindi poi ci sono delle cose che io educatore devo pensarci io educatore non ci pensa il figlio in questo momento nelle famiglie molto spesso il problema è proprio una sovrapposizione dei ruoli cioè o da una parte io decido comando e non ascolto le tue ragioni perché c'è un tentativo di rimettere insieme i pezzi e quindi andiamo sullo stile un po' più autoritario oppure dall'altra parte noi siamo amici ci vogliamo bene condividiamo tutto ci raccontiamo tutto però nessuno poi si prende la responsabilità del genitore per cui è ti prego non fare questa cosa o ti prego mi ferisci fallo per me no fallo per me diventa una responsabilità eccessiva per un figlio io mi prendo la responsabilità di dirti questo sì questo no non lascio a te la scelta e questo non toglie che anzi soprattutto perché c'è una forte profonda relazione io posso anche entrare un pochino più profondamente nel ruolo educativo quando i ragazzi arrivano da me io i primi tempi sono solo concentrata sullo stabilire un buon rapporto per cui non mi raccontano delle cose che li prenderei attestate ma me la tengo per me perché in quel momento lì io non ho titolo per dire niente nel momento in cui nasce la relazione loro si fidano ci piacciamo a vicenda io mi posso permettere qualunque quando parlo di materno e paterno non parlo di genere non parlo di femmine maschio parlo di quel materno e paterno che tutti noi abbiamo dentro noi dentro abbiamo un mondo di personaggi che sono poi tutti governati dal nostro io e questi personaggi intervengono nei vari momenti della vita abbiamo anche un materno e un paterno e quando noi siamo nei confronti di un figlio o di un studente o di qualcuno che è nel nostro percorso educativo a me fascina molto il discorso dell'abbraccio qualcuno magari avrà letto il gesto di Ettore ma il succo è questo l'abbraccio materno e l'abbraccio paterno ci dicono già di che cosa stiamo parlando pensate al bacio morbido tendenzialmente di una mamma e al bacio pungente di un papà anche un papà che si è appena rasato ha un bacio pungente c'è già una differenza non c'è una fusione c'è già un limite l'abbraccio materno tendenzialmente è questo quindi è un abbraccio avvolgente è un abbraccio che riscalda che contiene è un abbraccio che porta dentro quasi riporta un po' nell'utero l'abbraccio paterno invece è molto diverso e viene definito il gesto di Ettore perché nella mitologia quando Achille va sotto le mura a sfidare Ettore perché è stato ucciso il cugino per cui lo ritiene responsabile lo vuole uccidere Ettore sa che andrà a morire e quindi c'è il momento in cui saluta il figlio e la moglie e fa due gesti che sono estremamente significativi anche per quello che stiamo dicendo toglie l'elmo prima di salutare il bambino e lo abbraccia sollevandolo verso il cielo questi due gesti ci dicono tantissimo su quello che è il ruolo paterno come si deve avvicinare un padre a un figlio innanzitutto togliendo l'elmo quindi un padre si avvicina a un figlio non come guerriero e non come con quell'abito quel costume che è il suo lavoro per esempio ma deve entrare in contatto con la parte umana con l'uomo deve proprio scoprire la sua identità e l'uomo da una parte dall'altra non è un abbraccio avvolgente quello che regala suo figlio ma è un abbraccio che porta verso il mondo e questo è esattamente il gesto del ruolo paterno che poi lo faccia la mamma o lo faccia il papà o lo faccia lo zio o il nonno non è importante ma c'è un momento in cui l'abbraccio avvolgente deve lasciare il posto che presenta ma in quasi tutte le culture c'è questo gesto che è il gesto per esempio dell'ingresso in società ci sono dei riti a seconda delle popolazioni l'ingresso in società è chiaro simbolicamente è un allontanare e portare verso che è un accompagnamento perché tirarlo sarebbe diverso sollevarlo è sicuramente un accompagnamento allora il gesto paterno che lo faccia la mamma o lo faccia il papà prevede invece proprio la distanza prevede il fatto che non c'è più una fusione ma c'è un limite quindi questo gesto che allontana è come se sottolineasse di nuovo quel discorso del confine che facevamo prima non credo di avere tempo per dirvi degli anni vi dicevo non mi hanno bruciato ma ci sono andata vicina nel senso che poi molti colleghi sono all'inizio all'inizio della mia carriera erano un po' preoccupati da questo modo di lavorare un po' fuori dal coro poi per fortuna mi hanno conosciuto visto che non ero pericolosa ed è diventato invece un metodo al punto che l'anno scorso io sono diventata docente per Federser che è uno degli enti nazionali più importanti forse il più importante rispetto alle dipendenze e a fine corso c'è stata una proposta di far diventare alcune delle cose che ho portato parte di un master universitario e quindi mi hanno chiesto trasformali in un metodo cioè crea qualche cosa che sia riproducibile che sia raccontabile allora il solito discorso di prima doccia sotto la doccia e dico va bene ma che cosa come lo posso strutturare e quindi ho pensato di avere davanti i ragazzi e ho pensato cosa sono le tappe che io chiedo di fare e mi vengono in mente sette step che sono questi qua che adesso vi accenno velocemente la cosa interessante qual è che poi volevo trovare il mito la fiaba qualche cosa che mi aiutasse a farlo passare anche nella pancia e ho scoperto che non ho scoperto niente nel senso che questa è esattamente la struttura di tutte le fiabe le fiabe terapeutiche hanno esattamente questi sette step per cui il metodo ARTA che è quello che utilizziamo noi per il progetto che vi ho raccontato fino adesso ripercorre questi sette punti che vi sintetizzo in modo anche un po' banalizzandoli ma io ai genitori soprattutto agli educatori chiedo di partire da le fiabe iniziano con cera una volta quindi si esce dal tempo si esce dal contesto si resetta quindi io alle famiglie tendenzialmente chiedo di resettare per cui di togliere un po' di regole di non stare addosso su che ne so la scuola i compiti non per sempre ci prendiamo almeno un mese però dove piazza pulita togliamo tutto il secondo punto è il centro nelle fiabe che cosa succede dopo il cera una volta si presenta il protagonista per cui si racconta che c'era una bambina con un mantellino rosso piuttosto che si presenta il protagonista in quel momento lì la seconda cosa che io chiedo ai genitori è di partire da lui o da lei cioè tutto quello che io ti dico tutto quello che io ti propongo parte da te questo sembra una banalità ma molto spesso ci escono frasi del tipo non puoi tornare tardi perché io sono stanca e ho bisogno di dormire oppure non puoi comportarti così perché hai due fratelli piccoli che poi ti imitano ok questo non è parlare di lui o di lei e di questo i ragazzi soffrono tantissimo allora è vero che c'è questa parte però non è la prima quindi la prima è non puoi tornare tardi perché non voglio che tu stia fuori finora perché domani mattina è scuola per milioni di motivi però non è perché per salvaguardare qualcun altro ma è per te e lo stesso per i fratelli certo che poi ci sono anche dei fratelli che vanno tutelati quando ci sono cose particolarmente pesanti ma io non intervengo su di te per i fratelli intervengo su di te per te e questo succede spessissimo in comunità quando io faccio dei richiami che ragazzi la prima cosa che mi dicono è eh ma non mi ha visto nessuno gli altri non ho disturbato e non ho creato problemi a nessuno chi se ne frega di gli altri e mi preoccupo dopo adesso mi sto preoccupando di te quindi parto dal protagonista il racconto dopodiché nella fiaba si comincia a raccontare no? cioè si sviluppa la vicenda terza cosa che chiedo ai genitori è di raccontare perché quando si dice i figli vanno ascoltati no? verissimo verissimo non tanto verbalmente bisogna imparare a ascoltare qualcos'altro però quello è un po' difficile da spiegare soprattutto al terzo colloquio però per introdurre la comunicazione noi non possiamo mai partire dall'ascolto perché dall'altra parte abbiamo una persona che non sa come comunicare o comunque in questo momento è in crisi nella comunicazione per cui è inutile che io mi sia da tavola e aspetti che mi racconti oppure come è andata raccontaci qualcosa recentemente una mamma mi ha detto con lui lì Tris papà mamma lui io dico questa cosa e lei dice dai allora va bene da stasera tu prepari un argomento al figlio e già non intendevo questo non intendevo questo allora si parte da raccontare se io voglio insegnare la comunicazione ti faccio vedere come si fa e quindi comincio a raccontarti io vengo a casa e ti dico non sai cosa mi è successo piuttosto che mi è venuta un'idea ma comincio a raccontare è solo dopo che posso aspettarmi che tu abbia imparato e che tu racconti tant'è che il quarto punto è l'ascolto per cui poi io dico va bene quando abbiamo cominciato ad aprire un canale di comunicazione è importantissimo imparare ad ascoltare e soprattutto imparare ad ascoltare il silenzio non tanto quello che mi racconti ma come me lo racconti il tono di voce come ti muovi quanto ti fai vedere quando noi conosciamo una persona basta che quando i ragazzi entrano dalla porta io ho già in mente assolutamente che cosa mi vengono a raccontare ma io come tutti voi come chiunque altro se noi conosciamo una persona non abbiamo bisogno che ci verbalizzi quello che succede poi dobbiamo insegnargli a farlo però non è questo il bisogno quindi dopo il racconto c'è l'ascolto dopodiché nelle fiabe che cosa c'è la soluzione si va in cerca della soluzione quindi c'è un progetto si comincia a mettere insieme il progetto per cui non lo so vado dalla Baba Yaga a chiedere la pozione piuttosto che devo presentarmi alla regina delle rane comunque c'è un progetto devo risolvere questa cosa quindi identifico il problema e costruisco un progetto e questa qui è la quinta cosa che io chiedo alle famiglie o agli insegnanti cioè cominciamo a fare un progetto abbiamo resettato siamo ripartiti abbiamo ripreso lo strumento educativo perché il più delle volte si è perso lo strumento educativo per cui nei primi cinque passaggi si riprende piano piano progressivamente lo strumento educativo e quindi si passa al che cosa facciamo quindi cominciamo a strutturare un progetto per cui ci diamo degli obiettivi il sesto arriva il limite che tendenzialmente è il primo che portano i genitori quando i genitori arrivano la prima domanda che mi fanno soprattutto quando cominciano ad esserci pasticci di sostanze di alcol eccetera è dove si comprano i kit per fare l'esame delle urine che quello è l'ultima cosa se noi partiamo dal controllo e anzi poi verifichiamo che effettivamente c'è un problema se poi non abbiamo lo strumento per far fronte è la fine perché abbiamo legittimato sappiamo non c'è più niente da nascondere ed è una tragedia per cui il momento del limite è sempre limite che poi è legato al controllo è quasi l'ultimo pezzo del processo della ripresa dello strumento educativo per cui una volta che ho fatto tutti gli altri cinque allora comincio a mettere dei limiti e comincio a mettere dei limiti tenendo presente uno dei bisogni della persona che ho davanti e credetemi tutti i ragazzi hanno un estremo bisogno di limite perché il limite ci tutela il fatto di non essere loro a decidere fino a dove spingersi e dove fermarsi gli toglie una responsabilità enorme per cui tutti hanno bisogno di limiti dobbiamo essere tenere presente dei bisogni specifici di una persona anche perché le persone completamente senza limite come quelle che abbiamo visto prima se noi saltiamo con il limite le facciamo esplodere e quindi dobbiamo entrare un po' in dose omeopatica un pezzettino per volta fino a rimettere un confine più definito il limite quindi io comincio a chiedere di stare a delle regole comincio a mettere delle regole poche si parte sempre da una massimo due alla volta e soprattutto regole che io poi genitore sono in grado di far rispettare perché se io dico ma non starai uscendo anche se ti ho detto che ma già lo sto mettendo in conto no? che vai per cui io devo essere molto convinto che se ti ho detto che non esci non esci quindi nel momento in cui metto il limite devo anche scegliere quel limite che so di poter mantenere e l'ultimo è nelle fiabe c'è il lieto fine una fiaba è una fiaba se c'è un lieto fine se no una favola è un bel racconto ma la fiaba terapeutica ha il lieto fine il lieto fine è quello che ci fa sempre vedere la luce allora nel momento in cui cominciano a esserci i piccoli segni di miglioramento di un percorso che si è attivato che all'inizio sono veramente quasi impercettibili però nel momento in cui li comincio a vedere li devo rinforzare per cui l'altra cosa che chiedo alle famiglie è se c'è una questione risolta se c'è qualcosa che si muove perché a volte poi l'obiettivo è quello di arrivare a trovare il limite come scusate il lieto fine come il successo scolastico come l'otto no? in realtà io non parlo mai di questo io parlo di un benessere di una qualità della vita per cui quando cominciano a esserci delle azioni dei comportamenti funzionanti il lieto fine va sottolineato perché quello permette di capire di registrare che se io mi muovo in un certo modo riesco ad ottenere anche qualcosa di molto utile importante e gratificante credo di avere detto quasi tutto grazie a tutti grazie a tutti